Siamo in città vecchia, siamo sui pontili del lungomare su Mar Piccolo, sono partiti i lavori di riqualificazione, di messa in sicurezza dei pontili che come vedete stavano da decenni in una situazione di degrado e di pericolosità, vedete ci sono dei buchi aperti dappertutto, quindi abbiamo deciso di intervenire immediatamente nell'emore poi di riqualificare tutto, come sapete con il grande progetto all'interno del CIS, del Waterfront Mar Piccolo, però già abbiamo iniziato a rimettere le doghe nuove di legno, sostituire quelle distrutte, coprire tutte le lacune, tutte le mancanze e mettere in sicurezza tutti i bordi anche per dare un ordine al parcheggio delle barche dei pescherecci. È un'operazione che durerà un mesetto, gli operai sono a lavoro nonostante il grandissimo caldo che vedete caratterizza queste giornate, però è importante che questa operazione venga fatta nel più breve tempo possibile, proprio per mettere in sicurezza questa passeggiata che è bellissima e che potrà essere finalmente nuovamente fruibile. Successivamente metteremo anche illuminazione, arredo, quindi diventerà nuovamente un lungomare che tutti i cittadini di Taranto potranno venire ad ammirare.